Debrevitate vite, capitolo 9. Prima di parlare del brano, faccio una breve introduzione sul lessico del tempo. La tematica del tempo è molto ricorrente nelle opere di Seneca, ma viene affrontata nello specifico nel dialogo del Debrevitate vite. Per Seneca il tempo è lo spazio di vita che la natura assegna all'uomo, e l'uomo sa di poter agire esclusivamente nel presente, poiché è consapevole della fugacità e della precarietà dell'esistenza umana. In senso proprio, il termine tempus indica il momento o il periodo in cui avviene un evento, e coincide con la durata stessa di questo evento, ma può anche semplicemente indicare un momento preciso, come un'epoca, un'età o anche un'opportunità. In latino questo termine tempus ha mantenuto i suoi significati originari, ma contemporaneamente ne ha aggiunto dei nuovi, come ad esempio condizioni meteorologiche, espresso con la parola tempestas. Seneca utilizza differenti termini per indicare il tempo, tra questi noi ricordiamo etas e ebum, che indicano la durata della vita umana, oppure vita, che rappresenta non solo il modo di vivere, ma anche l'essere concretamente vivi, e quindi il saper utilizzare in maniera saggia il tempo finché lo sia ancora a disposizione. In questo passo del De brevita de vite, noi abbiamo diversi termini che si rifanno alla tematica temporale, ad esempio Die fuga, la fuga dei giorni. Questa immagine ci rimanda non solo a testi della letteratura latina, come la fuga temporum di Orazio, ma anche a testi della letteratura italiana, come il concetto di tutto al mondo passa di Leopardi. Un altro termine legato alla tematica temporale e occupati, gli affaccendati, cioè quegli individui che si sono lasciati travolgere da faccende di ben poca importanza. Un altro termine inerente alla tematica temporale è senectus, l'età adulta o avanzata. E infine vi è la sentenza Iteras sidum et citatissimum vitae. Questa sentenza significa che il tempo scorre veloce senza mai fermarsi e soprattutto senza mai aspettare l'uomo. Il brano mette in risalto come i giorni migliori siano i primi a fuggire via. Questo perché l'uomo è distratto da faccende di ben poca importanza. Gli uomini affaccendati, infatti, molto spesso non si rendono conto dell'incombre della vecchiaia e quando questa arriva loro sono impreparati. Questo loro essere travolti da altro viene anche paragonato all'uomo che viaggia. Molto spesso l'uomo in viaggio si fa distrarre da una piacevole lettura oppure da una piacevole conversazione e non si accorge di essere arrivato né tanto meno di essersi avvicinato. Soltanto alla fine l'uomo capisce ciò che ha sprecato e capisce anche di non poter riavere più indietro il tempo che ormai ha perso. Questo brano è un inno all'audace e all'intervendenza, in quanto Seneca al suo interno invita l'uomo a sfruttare in maniera efficiente e produttiva il tempo che egli ha a disposizione durante la vita. È inoltre un ammonimento contro la pianificazione insensata della vita, in quanto essa crea solamente affanno e porta l'uomo a non vivere il presente e quindi a sprecare il tempo a sua disposizione. Quindi l'uomo è invitato da Seneca a vivere intensamente ogni istante e a sfruttare in maniera saggia ogni momento, ogni istante che fugge, giungendo quindi alla fine della sua vita soddisfatto di ciò che ha fatto e senza rimpiangere alcuna cosa. Potestne quicquam Stultius esse quam corundam sensus hominum eorum dico qui prudentiam iactant? Quindi il verbo della principale è potestne che regge l'infinito esse. Può esserci, il soggetto è qualcosa, quicquam, di più stolto, Stultius, rispetto, quam, allo stato d'animo di alcuni, sensus corundam, e qui c'è un incidentale, dico eorum, ominum eorum dico, intendo dire di quegli uomini, qui è una relativa che si riferisce a quegli uomini, quindi intendo dire di quegli uomini che vantano iactant prudentiam. Quindi, occupati sunt, sono affaccendati, operosius, più attivamente. Qui operosius è un comparativo di maggioranza dall'aggettivo operosus e qui ha valore avverbiale, quindi più attivamente. Ut mellius possint vivere. Per poter vivere meglio, ut introduce una finale, impendio vite vitam istruunt. Organizzano istruunt, vitam, la vita, impendio, a spesa della vita. E qui troviamo un poliptoto, vite che è al genitivo e vitam che è invece l'accusativo. Quindi, il verbo della principale è ordinant e il soggetto si riferisce a ominum eorum, a quegli uomini. Quindi, dispongono, cogitazione suas, i propri progetti in longum, a lunga scadenza. Porro, d'altra parte, maxima iactura vite, maxima la più grande iactura perdita della vita, dilazio est, è il rinvio. Quello, illa, si riferisce a dilazio, quello, extrait, esclude, ciascun primo giorno, quenque, ciascun primum, primo giorno, illa, sempre riferito a dilazio, quello, ed ipit, si porta via, presenzia, le cose presenti sarebbe. Quindi, i beni presenti. Dum è un'avversativa, introduce un'avversativa, mentre ulteriora promettit, ne promette degli altri. Maximum vivendi impedimentum est expectatio, que pendet ex crastino, perdito diernum. Maximum, il più grande impedimentum, impedimento vivendi, del vivere, è l'espectatio, è l'attesa. Que si riferisce a espettatio, che pendet ex crastino, che dipende dal domani, perdito diernum, e perde l'oggi. Quod in manu fortune, positum est, disponis. Quod in tua, dimittis. Quod, ciò che, positum est, è posto in manu, fortune, nelle mani della sorte, Disponis, lo disponi, non è imperativo, è presente. Lo disponi, ciò quod in tua, ciò che, sottintesso sempre, è, o è posto, nelle tue, dimittis. Lo lasci perdere. Quo spectas, quo te extendis, omnia, que ventura sunt, in incerto iacent, protinus vive. Quindi, vi sono due interrogative, introdotte da quo, che si ripete due volte all'inizio della domanda, quindi vi è un'anafora. Dove miri, quo, significa dove, quindi, dove miri, quo te extendis, dove ti dirigi. Omnia, è il soggetto della frase, si riferisce a tutte le cose, que, che, ventura sunt. Qui, vi è una periflastica attiva, quindi, che sono destinate a verificarsi. Iacent, è il verbo della principale, giacciono, si trovano, in incerto, nell'incertezza. Protinus vive. Qui vi è un invito del poeta, rivolto verso il lettore, a vivere subito, vivi subito. Clamat ecce, Maximus Vates, et velut Divino Ore Instinctus, salutare Carmen Canit. Optima queque dies, miseris mortalibus evi prima fugit. Quindi, ecce, ecco, Maximus Vates, il Massimo Poeta, clamat, grida. Et, et, e qui velut introduce una modale. E, come istinctus, come ispirato, divino ore, da bocca divina, Canit, canta, un carme salvifico. Salutare Carmen. Optima queque dies, quindi, queque dies, ciascuna giornata, optima, più bella, optima, è un superlativo di bonus, un superlativo assoluto di bonus. Evi è un genitivo, quindi, della vita, miseris mortalibus, agli infelici mortali, fugit, fugge, per prima. Quindi, qui vi è la presenza di un iperbato, in quanto dies è il genitivo evi, quindi, ogni giornata della vita, sono separati da miseris mortalibus. Quindi, qui punctaris, in quitt, qui cessas, nisi occupas, fugit. Qui punctaris e qui cessas, sono due interrogative introdotte da quid, quindi, in questo caso, come sopra, vi è la ripetizione di quid. Perché esiti, quid cuntaris, dice, inquit Quid cestas, perché aspetti Nisi introduce un periodo ipotetico di primo tipo, quindi della realtà Se non la prendi in tempo, nisi occupas, fugit, fugge Et, cum occupaveris, tamen fugget Itaque, cum celeritate temporis, utendi velocitate certandum est Et, velut ex torrenti rapido, nexem perituro, cito aureendum Anche, et, cum occupaveris Cum ha il valore di temporale, introduzione temporale Quindi, quando l'avrai presa Occupaveris è futuro anteriore da occupo Anche quando l'avrai presa in tempo Tamen, tuttavia, fugget, fuggirà Itaque, quindi Cum celeritate temporis Cum contro la rapidità del tempo Certandum est E' una perifrastica passiva Bisogna gareggiare con la velocità del farne uso Velocitate utendi E' E qui c'è una similitudine introdotta da velut E' Come ex torrenti rapido Come da un torrente impetuoso Nexem perituro E' destinato a scorrere non sempre Ituro è un aggettivo participio futuro dal verbo eu Cito aurendum Quindi aurendum che è retto da est Bisogna Sottinteso Attingerne presto Oc quoque pulcherrime Ad exprobrandam Infinitam cogitazionem Quod non optimum Quamque etatem Sed diem dicit Anche questo Sottinteso Sottinteso Dice Benissimo pulcherrime Ad exprobrandam Introduce una finale Quindi allo scopo di Rimproverare Infinitam cogitazionem La progettazione infinita La progettazione senza limiti Quod Visto che Dice Non ciascuna Più bella età Ma giornata Quod Introduce una causale Dal momento che Visto che Dicit Dice Non optimum Quamque etate Non ciascuna Più bella età Sed diem Ma giornata Quid securus Et in tanta Temporum Fuga Lentus Menses Tibi Et annos In longam Seriem Utcunque Aviditati Tue Visum est Exporrigis Quid Perchè Perchè Sicurus Sicuro Sicuro Di te Et in tanta Temporum Fuga Lentus Quindi Lentus E calmo In così Grande Tanta In così Grande Fuga Temporum Dei tempi Tibi Exporrigis T H Parri E qui Troviamo Un iperbato In quanto La parola Tibi E il verbo Exporrigis Che è il verbo Poi della principale Sono molto Distanti l'uno All'altro All'interno Della frase E poi vi è anche Menses Et annos Anche qui vi è un iperbato Perchè Le due parole Sono separate Dal Tibi Quindi Ti accaparri Mesi Menses Et annos E anni In longam seriem Per una lunga serie Utcunque Introduce Una modale In base a come Visum est E parso Portuno Aviditati tue Alla tua Avidità De die Tectum Loquitur Et de hoc Ipso Fuggente Parla Tectum Con te Della giornata De die Et De Oc Ipso Fuggente E Di questo Stesso Di questa stessa Riferita alla giornata Che Fugge Che sta Fuggendo Nun dubbium est Ergo quinn Prima Queque Optima Dies Fugget Mortalibus Miseris Id est Occupatis Quorum Puerilis Adunc Animos Senectus Opprimit Ad Quam Imparati Inermesque Pervenjut Nilenim Provisum Est Subito Inillam Necopinantes Inciderunt Accedere Eam Codidie Non Sentiebant La principale È Num Dubium Est Questo Num Introduce Un'interrogativa Retorica Che presuppone Una risposta Negativa C'è forse Dubbio Quinn Introduce Una completiva Dunque Che Tutti I giorni Migliori Queque Optima Dies Fuggano Fugget Per primi Ai miserabili Esseri umani Mortalibus Miseris Cioè Agli Affacendati Occupatis Inoltre Adunc La vecchiaia Senectus Angoscia Opprimit Gli animi Di quei ragazzi Quorum È un esso Relativo E sta per Et Eorum Puerilis Invece È un Arcaismo Che sta per Puerilis Ed è attributo Di animos Con cui Forma anche Un iperbato Adquam Introduce Una relativa Alla quale Giungono Perveniunt E Impreparati E deboli Due predicativi Del soggetto Nulla infatti È stato previsto Nile anim Provisum Es Principale All'improvviso Si sono imbattuti Inciderunt In quella Che non si aspettavano Ne copinantes Non si accorgevano Sentievant Che quella Si avvicinava Accedere Quedidianamente Quem ad modum Introduce Una relativa Propria Allo stesso modo Che Ho un discorso Sermo Ho una lettura Lectio Oppure Una riflessione Piuttosto intensa Questo Intenzior È un Comparativo Assoluto E in questa frase Abbiamo anche Un polisindeto Dato da Out In Inganna Decipit Coloro Che fanno Un viaggio Facentis È un arcaismo Sta per Facentes Ed è un Participio Sostantivato E capiscono shiunt che è coordinato alla principale di essere arrivati et pervenisse prima che di essersi avvicinati antequam apropinquasse questo è una forma sincopata di apropinquavisse e entrambi questi due verbi introducono due infinitive sic coordinato con quemadmodum così questo viaggio della vita ininterrotto e rapido assidum et citatissimum che facciamo quod facimus dichiarativa svegli e dormienti vigilantes dormientesque con il medesimo andamento a coloro che sono impegnati non si manifesta non apparet eccetto che alla fine nisi infine